Degustazioni gratuite, prodotti da conoscere e canzoni da ballare. Il mercato agricola a vendita diretta, situato in via di San Teodoro, accoglie l'evento dal titolo Sapore e Canti Tradizionali del Lazio per le aziende agricole romane, l'opportunità di presentare in maniera dettagliata autentiche eccellenze dal punto di vista enogastronomico. Questo mercato nasce proprio con l'intento di portare la campagna in città, quindi le migliori tradizioni, i migliori prodotti del Lazio vengono a Roma e sono disponibili per tutti i cittadini che vogliano gustarli e interessarsi ad essi. Le aziende agricole che sono state sfruttate fino a pochi anni fa dalla grande distribuzione organizzata, qui invece con la vendita diretta possono realizzare un guadagno sulla base di principi etici, quindi il chilometro zero, la filiera corta, il rispetto dell'ambiente, il del lavoro. Questa per loro è una grande occasione di rivincita, se vogliamo, anche sociale. Una mostra caratterizzata da oggetti della civiltà contadina e da strumenti popolari, l'esecuzione dal vivo di brani cantati in dialetto, che sono indice di storia e genuinità, ingredienti perfetti per rendere all'altezza un'iniziativa curata in ogni minimo dettaglio. La musica è sempre stata un momento per sottolineare la vita del contadino, del popolo, delle stagioni, per cui abbiamo un concerto fatto dai cantori interi di lavoro, che è un gruppo che ho scoperto per caso quest'estate, vengono da Picinisco. Ci sono delle ballate, delle ballarelle molto belle, alcune legate ai tempi della raccolta, alcune ai tempi della vendemmia e altre appunto a ricordare dei personaggi che hanno popolato le ballate lasciando un ricordo indelebile. Profumi e suoni di un tempo o mai, quindi oggi necessari per ricordarci da dove veniamo e di cosa ha veramente bisogno la nostra alimentazione, se la risposta del pubblico è ottima. Tanto vale replicare. La musica è stata un'iniziativa curata, è stata un'iniziativa curata,